venerdì 26 e sabato 27 luglio viene a festeggiare i 23 anni del centro commerciale venerdì pomeriggio parte a huaiano e laboratori per i più piccoli e dalle ore 18 il taglio della torta con la musica e la diretta radiofonica di radio studio 2000 sabato dalle 18 e 30 viene ad ammirare le spettacolari esibizioni dei gruppi folk di messico e qui abbiamo oído classics si suppone che è otto nove classics dei esperienza un abbraccio a tutti ciao e allora ti facciamo gli auguri ciao david dammi bene mi raccomando allora tanti auguri e soprattutto bevi bevi e bevi bene eh però devi bere bene scuola nella vostra parte si beve molto bene e molto 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 importante che sia bene perché quello fa la differenza perché se bevi va bene basta basta con la pipetta va bene è un po' poco habitual super sound en questa frecuencia come veis 98.3 con rds è verissola molto buon troppo molto buona troppo molto buon troppo buon troppo è verissola i ci sono La cosa che abbiamo sintonizzato prima è Radio 101, di Arbus, anche è rara. Rete 5, anche ha fatto molto tempo che non erano, ma oggi la propagazione è speciale, molto speciale, entro le piccole di Cervegna. ...la prova costume. Voi temete la prova costume? Sì, io la temo. Cosa? Lo stavano chiedendo in molti, per quello che ve lo sto... Infatti vado in montagna, Albe, quest'anno proprio... Cosa? Vado in montagna, però... Ah, lì, per superare la prova... A me non c'è un problema. Sappiate che, se invece affronterete a testa alta la spiaggia...